Questo video presenterà i principali esercizi che si possono svolgere a corpo libero o con attrezzi minimi in acqua bassa e alta. Inoltre verranno visualizzati i passi base dell'aerobica in acqua bassa. Rimandando a specifici testi la costruzione pratica e la didattica di insegnamento di ogni tipo di lezione, auguriamo a tutti una buona visione. Esercizi principali per i vari distretti muscolari del corpo, come dimostrarli dal bordo vasca e la loro esecuzione dentro l'acqua. Grazie a tutti. 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 Ecco ora un esempio di una scaletta di esercizi che potranno essere proposti o sotto forma di serie e ripetizioni o come lavoro a circuito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.